Ti piace questo polto? No, era quello che c'era già. Sì, posso vedere come ci vediamo? Grazie. 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 Buonasera. 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 Non vi vedo. Sì, mi stiamo... Perfetto, l'audio è perfetto. Ok. L'audio è perfetto, ok. Allora, se subito si sente, perché sennò problemi... Basta che non avremo problemi tecnici, poi per il resto... No? Scusate. Perfetto, perfetto. Ci dovremmo essere, ci dovremmo essere un tutto quanto. Ok, allora. Bene, buonasera come state? Buonasera Matti, buonasera Putrefatto. Questa è una live un po' diversa, un po' diversa per la location, non sto a casa mia. Un po' diversa per audio, un po' bassino rispetto al solito. In realtà, sì, perché non ho il microfono, ma... Diciamo che è tutto al massimo, tutto settato al massimo. Posso provare a fare così. Fatemi sapere... Meglio. Se è meglio o peggio. È meglio? Peggio? Aspettate, metto la cuffietta, così... Vado subito a verificare se si sente... Ok, ora. Ok. Dicono. Sì, 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 è buono adesso, è buono, ma è meglio se è un po' più alto. Non solo per la location, ma anche per la... Come ti vuoi rappresentare... Cioè, come ti vuoi... In cosa ti identifichi. Nei libri che diremo dopo. Nei libri che diremo questa sera. Giustamente, giustamente, lei è Castelli di Libri, la trovate su... Instagram e YouTube. Bene. Col nome di Castelli di Libri. Oppure col nome della ragazza del sussurro. Benissimo. Buonasera a tutti. Buonasera a Jacqueline. Per la fiamma. Cioè, per la fiamma. Cioè, forse c'è una luce più... C'è una luce un po' diversa. Un altro tipo di fiamma. Bene. Questa sera la live mi è venuta dall'idea, da un'idea delle storie su Instagram che... Che stavano andando. Queste storie, cioè, ma simboliche, lo immaginavo. E queste storie che stavano andando, tipo, descriviti attraverso sei libri, sei film. C'era anche sei opere d'arte. E quindi avevo fatto delle storie. Però ci stavo a approfondire con una live. E poi è carina, in realtà, perché si parla dei libri che preferiamo. E quelli in cui non tanto ci sentiamo rappresentati. Perché alla fine è una cosa anche un po'... Un po' sì, però. Sì, è anche un po' una cosa... Sembra che uno ricerca i libri per sentirsi rappresentato. Che poi può essere. Però noi due, come lettori, siamo abbastanza lontani. No, normalmente no, però alla fine è per rispondere a questo... Questo tag. Sì, per rispondere, esatto, è un po' un book tag. Devi guardarci a queste cose. A cui guardi, però ci siamo pure resi conto che alla fine non è che ci sentiamo proprio tanto rappresentati nei libri... Preferiti, no. Preferiti, no. Cioè, io non leggo per sentirmi rappresentato raramente. Ma anche perché poi, banalmente, da privilegiato quale sono. Non hai bisogno di... Non ho molto bisogno, perché poi i libri che leggo mi rappresentano. Libri che reputiamo come nostri, però in un senso che scopriremo questa sera. Nel senso... Perché come nostri magari reputiamo anche tanti libri che ci piacciono tantissimo. No, anche altri libri che però non abbiamo messo sicuramente. Magari ci piacciono anche libri. Sì, io ho messo anche libri che non sono tra i miei preferiti in assoluto. Però che mi sono rimasti molto per magari delle tematiche che affrontano... Che o ho sentito come mie o comunque che mi hanno toccato tanto e quindi mi sono rimaste e hanno... Che mi fanno magari riflettere ancora oggi dopo tanto tempo o cose del genere. Esatto, esatto. Qui però non vediamo i titoli. Questo è un problema. Questo è un problema. Aspetta, ma se invece... Non so se c'è modo di... No. No, aspetta, aspetta, aspetta. Forse si allarga un po' questo. No. Ah, devi allargare. Ah, no, forse così. Così, ok. No. Altro pochino. Scusate, eh. Problemi no. Non si fa. Benissimo. Vabbè, magari si trova modo che si fa così e... Oh mio Dio. Bene. No, perché praticamente ho messo grande lo schermo. Ok, metto così e facciamo così e così vediamo. Perfetto. Ah, ok, ok, ci sta. Che filmone. Sì, però poi dobbiamo provarli tutti. Va benissimo così. Secondo me li proveremo tutti e basta. Vabbè. Sì, sì, leggiamo libri insieme a volte, contemporaneamente. Sì, sì. Quando riusciamo a incastrarci. Sì. Molto bello in realtà perché ti dà, cioè, un'esperienza comunque diversa, cioè, interessante. Sì, più che altro ci si può confrontare anche durante il corso della lettura, quindi, non so, è interessante. Comunque, cioè, di solito, appunto, se leggiamo lo stesso libro ne parliamo tanto, quindi più... Poi abbiamo gusti di lettura molto affini, quindi è molto facile che ci troviamo a leggere lo stesso libro contemporaneamente e poi abbiamo anche una lista di libri che dobbiamo... Sì, anche troppo lunga perché poi, cioè, se dobbiamo leggerli tutti insieme non li leggeremo neanche. Questa... si spazia e si va a leggere... ecco, così leva la chat, ma la vediamo qui. Eh, vabbè. Ah, ok. Vabbè, per l'aria apriamo un tot. Ci sta, ci sta così, giusto quando dobbiamo mettere il titolo. Va bene. E, perfetto, abbiamo trovato la soluzione. Allora, allora, partiamo da i libri che ci rappresentano. Noi siamo ovviamente dai libri che sono il fulcro del canale e parto... parto io, così, per scaldare un po'. Allora, partiamo da un libro che... mi ricordo più quali sono i miei libri e quali sono i tuoi. Allora, ma ci sono i miei libri? Ma sì, sì, hai già passati... No, ho passati tanti. Allora, io parto da questo, sia carissimo. Che è quello in cui in realtà mi sento anche meno rappresentato. Nel senso che questi sono i... Mi sta coprendo, però. Mi copre. Cos'è il troppo? Cosa fa? Oh, aspetta. Aspettate. Niente, ormai... Vabbè, no, mi copre. Facciamo così. No. Ok. Ok. Allora, praticamente questa è... Sono i... Scusate, questa live sarà ovviamente un delirio. Non ci possiamo fare nulla. E... Ma perché in realtà ho sbagliato? Scusate, eh. Scusate, veramente sono pesa. No, perché in realtà... Questo qui... Oh, olè. Scusa, mamma mia. Che delirio questa live. Si vede poco la copertina, ma perdonatecelo. Praticamente sono i Tales in Poems di Edgar Allan Poe. Mi sono messo in inglese, non perché lo legga principalmente in inglese, lo leggo principalmente in italiano, però è molto carina questa edizione. E in realtà appunto è il libro in cui mi sento rappresentato di meno, perché... Però dovevo ometterlo, perché comunque questo rappresenta... Questo libro rappresenta un po' la mia passione nei confronti dell'orrore, nei confronti di un certo filone che tu non hai, che è quello dell'inquedante, del perturbante. E per me il più grande esponente è ancora Edgar Allan Poe. Ancora non ho trovato un autore che lo superi, poi è un autore a cui mi sono avvicinato alla letteratura e alla lettura. E non potevo non metterlo. Mi sento rappresentato per il gusto verso il macabro, verso un certo tipo di orrore psicologico, anche verso alcune dinamiche appunto sempre molto psicologiche, verso alcune analisi psicologiche che vengono fatte. Ovviamente non mi identifico in questi personaggi, sennò adesso non staremmo qui e tu non saresti viva. Eccoci. Quindi non mi identifico assolutamente. Polizia. Non mi identifico in Edgar Allan Poe. Alzo le mani. Non... Però ho molto il gusto per... Comunque uno dei temi più importanti per Edgar Allan Poe è la fascinazione per le giovani donne. Per le parenti. No vabbè scherzo. No vabbè questo è veramente da denuncio. No per... Beh sono ancora giovane, posso avvicinermi le donne giovani. Non so dove mi sto infilando. Però no, il tema centrale della narrativa tipo è proprio il gusto nei confronti di alcune giovani donne della sua età, parenti, uggine. Saluto mia uggina che guarda questa live. No vabbè non so perché sto facendo questo discorso. Però perché è un tema importante di Edgar Allan Poe è quello appunto della fascinazione in fronte delle donne morte. Bene però è questo in cui ti identifichi. Non mi identifico in questa... Il live è un mix tra carezzine e sguardi e cosine strambe, penso di sì. Però non mi identifico in questo gusto. Bene. Come si vede ho un altro gusto. La persona accanto a me è viva e non è mia cugina. Benissimo, andiamo avanti con il tuo. Scegli tu che titolo vuoi. Aspetta però prima mi devi levare Poe. Eccoci qua. Va bene. Allora, io inizio con qualcosa di un po' banale ma ci voleva. Adesso lo sistemo. Adesso lo sistemo io. Va bene, sistemalo tu. Vai tu. Allora, come credo la maggior parte delle persone che... No, la maggior parte delle persone che leggono tanto e che hanno gusti simili ai nostri credo abbiano letto la nausea di Sartre e credo che in molti casi sia stato un libro formativo perché, non so, almeno nel mio caso è stato uno dei primi che ho letto tra i libri, tra virgolette, seri o comunque insomma da adulti e tra quelli che mi hanno fatto più riflettere su determinate cose e tutto il filone poi esistenzialista è stato quello che... cioè in cui mi sono rivista di più nel corso del tempo e in cui tutt'oggi alla fine mi rivedo di più cioè per quanto poi sia andata avanti con i gusti da lettrice e... cioè adesso leggo anche molto altro e non so, non è che ne legga più moltissimi di romanzi proprio che si possano definire esistenzialisti, più magari testi filosofici quindi sì, sono andata sicuramente avanti, adesso ho altri gusti anche però se devo parlare dei libri in cui mi identifico di più alla fine sono sempre questi non ho voluto mettere sei titoli esistenzialisti perché sarebbe stato un po' noioso però sarebbero tutti quelli tipo lo straniero di Camus, la peste, hai letto l'essere nulla? No perché... però ce l'ho, è qui Flexino no, aspettate, dove cavolo? Me lo metto davanti, vabbè, qui e in realtà, va bene, dovrei leggere almeno una parte prossimamente tutto non lo so perché comunque ci vuole del coraggio cioè Sartre romanziere è una cosa, Sartre filosofo è un'altra però ci... cioè, prima o poi sì prima o poi sì e... e niente vuoi dire qualcosa anche tu sulla nausea? anche poi tu studi filosofia sì, io studio filosofia quindi poi, appunto, ho approfondito più con i testi filosofici questa... questa, diciamo... tipologia di riflessioni, diciamo così però l'ho scoperta, comunque, attraverso la letteratura, alla fine ti dice, leggiti la parte relativa agli sguardi, ti hanno delle sguarde in sarte ok, va bene e buona sera spalmatrice comunque, prima ho visto che questo l'ho inserito anche io quindi non ci divide ma ci accomuna e... l'ho inserito anche io perché mi rivedo nel tema della nausea esistenziale, no? nel... sì, vabbè, proprio... se devo scegliere un testo esistenzialista in cui mi rivedo di più c'è sicuramente la nausea che è un po' alla fine il racconto di una presa di consapevolezza nei confronti del mondo che ci circonda dettata magari anche dalla solitudine che porta a molta introspezione e appunto da questo senso di nausea nei confronti di qualunque cosa che penso sia un sentimento comune in un'adolescenza introspettiva e molto consapevole e... come è quella qua del protagonista quindi secondo me se ci si sente un po' vicini ci si sente tanto vicino cioè è un libro che o si capisce totalmente o non si capisce parla ad un certo tipo di persone che comunque secondo me parla a tante persone alla fine non è un libro per pochi, è un libro per molti però bisogna avere un minimo di sensibilità a queste tematiche un minimo di sguardo critico sì sul mondo alla fine che però appunto nell'adolescenza generalmente si sviluppa un minimo quindi sì libro dell'adolescenza libro più caratteristico dell'adolescenza sicuramente direi sì poi io continuare con un sartre narratore però comunque la nausea non è un testo che io definirei romanzisco sì no ma non è che cioè sicuramente non lo leggi per la prosa no 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 ma al di là della prosa è proprio che non sembra un romanzo sembra veramente poco un romanzo sembra di leggere più un sartre fatto apposta per comunicare certe riflessioni appunto certi pensieri non sì sono pensieri messi messi in prosa alla fine sì alla fine mi ci rivedo perché io ho sempre la nausea fisicamente anche la nausea poi tocca va davanti io in realtà sì vai avanti tu vai avanti tu va avanti tu allora se lo trovo ok ecco per rimanere a tema così finisco anche l'altro che che ho ci si parla no vabbè li metto li metto qua dai vieni qui ok rimettimi la chat che non so vai e allora ho messo anche out out di Kierkegaard che non è un romanzo infatti è proprio direttamente un saggio filosofico non è un saggio in realtà però vabbè insomma sono pensieri sicuramente filosofici e allora questo l'ho messo perché siamo sempre sulla stessa corrente ma quello che forse mi ha influenzata di più e in cui mi sono rivista di più anche di più che nella nausea che è stato il primo però non è stato quello appunto più importante per me quello più importante per me è stato questo out out di Kierkegaard che in realtà è una versione praticamente tagliata del libro completo che sarebbe Antenheller che è diviso in cinque volumi e insomma è una cosa un pochino più complessa però questa versione qui della Mondadori diciamo contiene l'essenziale per capire i concetti e io ho letto quella non sapevo all'epoca che fosse un estratto praticamente però diciamo che ce la si può far bastare all'inizio perché sennò Antenheller era inaffrontabile secondo me alle prime armi così e parla sostanzialmente come dice anche il titolo del tema della scelta quindi della anche incapacità di scegliere ok molto spesso e del tipo di vita che questo comporta cioè la vita di una persona che non sa scegliere che non sa prendere una decisione e portarla fino in fondo e tra virgolette accollarsi il peso delle responsabilità che questo comporta è un tipo di vita che Kierkegaard definisce vita estetica che però è molto povera da certi punti di vista e quindi ti spiega in un certo senso perché non è una vita completa e perché non è la vita migliore e la contrappone alla vita etica che è quella di chi appunto si assume delle responsabilità eccetera che detto così sembra un po' però vi assicuro che leggerlo da Kierkegaard e soprattutto in un'età in cui magari si inizia a dover prendere delle decisioni e non si sa che cosa fare che cosa scegliere è abbastanza forte io l'ho letto tipo in quarta alla fine della quarta superiore anzi no forse all'inizio della quinta e io dovevo cioè in quel momento la scelta era la scelta dell'università che è stata abbastanza difficile e infatti poi ci ritorneremo anche con un altro libro su questa cosa perché e insomma io in preda totale della paralisi decisionale aver letto questo libro mi ha un po' mi ha molto scosso perché io ero diciamo abbastanza convinta che il mio non saper scegliere fosse comunque qualcosa di legato non so all'avere tante passioni diverse e che fosse qualcosa anche di positivo no voler portare avanti mille cose insieme e non voler davvero prendere una decisione cioè pensavo che comunque fosse prevalentemente una cosa anche positiva Kierkegaard praticamente ti dice no in realtà ti porterà alla disperazione questo tipo di vita devi sapere prendere una decisione altrimenti non si può andare avanti sto banalizzando tantissimo perché non potrei fare altrimenti e quindi niente credo che sia molto formativo per chiunque soprattutto sempre nell'adolescenza ma non solo perché anche adesso avrebbe lo stesso impatto credo su di me e sì questo è quanto credo di aver anche risposto alla domanda come impatta questo testo la tua vita poi vabbè potrei rispondere in modo più approfondito ma non è il caso direi sì vabbè diciamo è un testo molto su sulle scelte che è un tema che riguarda tutti poi come fai a non riguardare io cos'è questo? ah no se questo questo è il tuo sì questo pure pure questo no amore c'è questo questo e questo questo ah questo no vabbè Baudolino allora Baudolino anche non mi rappresenta tantissimo nel senso che Baudolino tratta un tema che io trovo molto caro per me che è il tema del delle illusioni però non è assolutamente un libro su cui non mi in cui non mi cioè il protagonista di questo romanzo qui è un protagonista molto lontano da me allora direte perché l'hai messo? perché hai messo tutti i libri in cui non ti senti rappresentato? non lo so no vabbè perché comunque è un è un libro che tratta questo tema il tema della perdita dell'illusione che è centrale per me poi non è non tratta il tema della perdita dell'illusione per un lettore dipende qual è il lettore ecco allora c'è il lettore illuso il lettore sognatore che si ritroverà pienamente in questi personaggi soprattutto nel protagonista Baudolino che va alla ricerca di un qualcosa non vi dico cosa sì anche Baudolino è un filosofo è anche Eco è un filosofo alla fine non solo è anche filosofo e infatti poi i suoi libri sono dei romanzi filosofici ma più romanzi rispetto a Sartre per esempio cioè si vede che era anche un gran lettore di narrativa Baudolino è un personaggio sognatore che va alla ricerca di un qualcosa e spasmodicamente ci crede fino in fondo è illuso fino in fondo ed è un libro che mi ha colpito molto perché che l'ho letto in un periodo in cui ero molto disilluso ora lo sono ancora di più e questo è il percorso che non finisce più quello delle disillusioni però è è un libro che mi ha fatto riflettere su un altro tipo di prospettiva cioè la prospettiva dell'illuso e della bellezza di essere illusi di ricercare un qualcosa da sognatori ed è un libro che ho inserito non solo perché è bellissimo uno dei miei libri preferiti ma anche perché è un libro in cui mi sento rappresentato nel senso che aspiro sempre ad avere lo spirito di Baudolino cioè di avere un qualcosa nella vita che ti faccia dire questa cosa la ricerco proprio perché lo sento cioè sento una spinta sento che il senso della mia vita è questo non è ricercare questa cosa qui e secondo me è una cosa rilluditi con Leopardi no beh con Leopardi proprio ancora più cioè ancora più nella disillusione cioè io dovrei leggere magari cose che mi facciano un po' illudere ma tutte queste letture non sono assolutamente proprio la mia siamo partiti malissimo e continueremo così e continueremo così anche con i film e quindi niente cioè è il mio ideale no l'idea di avere qualcosa di meraviglioso da perseguire e con cui illudersi e niente bellissimo leggetelo così capite anche poi come va a finire questa storia e devo leggerlo tra l'altro si ce l'hai si Badolino e Ecco in generale che non l'ho mai letto malissimo ok allora vabbè cambiamo un pochino mood che mi dici che si chiama un pochino dai allora io ho messo Solaris che vabbè è un libro un po' diverso dagli altri perché qua siamo diciamo nell'ambito della fantascienza però a dire la verità è anche accomunabile agli altri due perché si ritorna sempre anche sulla filosofia nel senso che praticamente Solaris parla di questa spedizione su un pianeta che si chiama appunto Solaris fatta per prevalentemente conoscere questo pianeta capirlo e sì ecco Rick Dufair approva sì l'avevo trovato da un consiglio di Rick Dufair infatti e infatti che appunto anche lui filosofo parla di filosofia e quello che è interessante in questo libro è proprio il tentativo dell'essere umano di capire qualcosa di totalmente diverso da sé e la sua impossibilità di farlo perché in questo pianeta ci sono delle delle creature degli eventi delle cose che sono praticamente indefinibili con il nostro linguaggio con i nostri concetti eppure noi per capirle per cercare di capirle dobbiamo comunque farle tornare entro i confini di quello che noi già conosciamo quindi i nostri concetti e il nostro modo di pensare e quindi è interessante appunto per il tema della conoscenza umana ok del fatto che noi vogliamo conoscere tutto vogliamo spingerci oltre i limiti anche proprio costitutivi dell'essere umano però poi quando ci scontriamo con qualcosa di radicalmente diverso da noi non possiamo in alcun modo comprenderlo possiamo solo tentare di ricondurlo a degli schemi che già conosciamo a degli schemi nostri ma in questo modo non lo capiremo mai e non lo so secondo me ci sono delle riflessioni molto interessanti all'interno di questo libro non l'ho trovato per niente banale si può leggere anche solo come un libro di fantascienza per carità però ci sono tante riflessioni anche belle lunghe al suo interno quindi diciamo che io lo consiglio più per chi è interessato a questo tipo cioè una fantascienza però filosofica ecco che comunque è spesso queste due cose vanno insieme perché appunto la fantascienza porta ad esplorare creature o luoghi o tempi diversi da quelli reali cioè qualcosa di non reale ma che ci fa riflettere sulla nostra realtà o su noi stessi quindi alla fine a me la fantascienza piace per questo motivo non ne leggo tantissima non ne guardo tantissimi film di fantascienza però cerco sempre qualcuno di infilarlo e mi piace per questo motivo appunto per il contenuto filosofico che spesso ha non sempre ma spesso sì cosa ti tocca di tema di questo cioè a parte il tema cosa nello specifico cioè rivedi poi nella tua beh questa questa volontà di conoscere qualsiasi cosa anche ciò che probabilmente non è conoscibile non è anche un po' sicuramente anche un po' la volontà di cioè la voglia di ricondurre tutto a degli schemi conosciuti e comprendere tutto un po' questo spirito appunto da filosofo che vuole capire tutto e però mi colpisce anche proprio per il fatto che invece ti fa vedere che certe cose probabilmente non le possiamo davvero capire però sì no e vabbè diciamo che mi ricordo un po' i temi di Lovecraft che estremamente non ho inserito che magari è molto più vicino a livello preosofico rispetto a Edgar Allan Poe su di me almeno e poi vabbè di Lem io ho letto solamente quest'anno La voce del padrone perché non lo conoscevo come autore il film non l'abbiamo visto nessuno dei due quello di Tarkovsky no vabbè lo vedremo dovremmo vederlo e sì è un tema cioè la propria di conoscere l'inconoscibile che poi c'è il desiderio supremo dell'essere umano no vabbè è un verissimo tema Matti ci dice che poi ti può influenzare molto da giovane che da tu cioè quindi più da giovane sì sì sono cioè sono d'accordo assolutamente cioè io comunque l'ho letto e mi ha colpito non non mi ha diciamo detto nulla di nuovo perché l'ho letto da grande da adulta sicuramente se l'avessi letto prima sarebbe diventato proprio uno dei libri della vita non è uno dei libri della vita ora per me però l'ho messo proprio per perché non so questo connubio anche di fantascienza e filosofia mi mi piace molto è l'unica cosa che un po' esula dalla solita diciamo letteratura di narrativa diciamo generale no che che leggo ecco sì sì è vero è vero è in realtà interessante cioè forse è vicino a quello che vorrei leggere in questo periodo volendo tipo la voce del padrone forse lo rileggerei anche e il film è ancora più bello ci dice gli snob ma sì ma il film è veramente annoverato tra i migliori della storia del cinema dovremmo vederlo e io non l'ho visto il film perché quando ho letto il libro ero non ero in grado di resistere ad un film così lungo e così lento adesso credo di sì adesso sono un po' più sul pezzo con i film all'epoca proprio no ci sto ci sto allora aspettate un secondo che levo anche quell'altro andiamo avanti allora io inserisco questo libro qui che è l'adolescente di Dostoevsky perché lei ha voluto mettere un altro libro di Dostoevsky che non spoilerò è un libro in cui mi sento rappresentato perché qui mi rivedo sento rappresentato no perché anche qui stiamo parlando di gente che non sta benissimo e però un Dostoevsky andava messo nel senso che è impossibile secondo me non non sentirsi proprio Dostoevsky l'adolescente è l'ho messo perché non è tra i romanzi migliori di Dostoevsky non è tra i romanzi grandi romanzi di Dostoevsky sfortunatamente perché secondo me sarebbe potuto essere uno dei migliori se solo magari avesse avuto più capacità non lo so comunque se si fosse impegnato un po' di più perché è un libro molto imperfetto molto confusionario caotico troppi personaggi è difficile stare lì dietro ma secondo me emerge molto bene poi la figura di un adolescente rabbioso che fugge che non lo so è molto arrabbiato molto scontroso indipendente non è d'accordo con nessuno è febbrile come tutti i personaggi di Dostoevsky vive una vita febbrile e sembra sempre sull'orlo della morte non io però comunque no però va bene io sto bene io sto no io sto bene nel senso ho messo questo sembra che non sto bene e l'unico libro giudioso con me ho detto mi sento il contrario però l'adolescente è un personaggio proprio adolescente cioè proprio l'adolescenza capito un po' simile alla nasa di Sartre e di un personaggio che è proprio al limite no è bello leggere di personaggi che sono al limite che arrivano al limite della loro sanità mentale della loro situazione economica del loro benessere familiare relazionale e quindi niente lo stile della forma rappresenta il contenuto certo ma stilisticamente non è male cioè non è un libro che fa schifo cioè la prosa è sempre quella di Tostoyevsky è un libro però molto caotico più che altro nella strutturazione tanto è perfetto delitto e castigo nel modo in cui è strutturato tanto questo è imperfetto è caotico e probabilmente raffazzonato però stilisticamente non è affatto scritto male secondo me io me lo sono voluto veramente tanto non ho mai letto Tostoyevsky però da quello che mi dicono quasi tutti i suoi libri sono dei capolavori sì chi più chi meno sì chi più chi meno insomma ci sono anche dei libri minori alla fine diciamo che i più citati di solito sono i suoi capolavori e sono tanti alla fine effettivamente eccezione fatta per Le Notti Bianche che secondo me non è niente di eccezionale cioè Le Notti Bianche è stato il primo libro che ho letto suo e mi ha dato una percezione totalmente distorta rispetto poi a quello che si trova in praticamente quasi tutta l'opera di Tostoyevsky che sono appunto questi personaggi pieni di rabbia febbrele invece quello è molto disteso molto rilassato sì diprimente però ci sta a me era piaciuto tantissimo lo stesso quando l'avevo letto l'ho letto anche io per primo però è vero che poi non c'entra nulla con i successivi cioè questo non sì è sottovalutato l'adolescente i primi capitoli sono molto belli ma in realtà poi non è un libro che peggiora andando avanti cioè si trovano cose belle nel corso della lettura solo che più vai avanti più dici oh mio dio ma proprio ci sono personaggi che hanno lo stesso nome già nei romanzi russi i padronimi ci sono un casino però poi ci sono personaggi che hanno lo stesso identico cognome cioè ci sono personaggi differenti quindi è veramente caotico anche in quello un dolce saluto anche a te Cicciocarra che è Francesco qua vedo fiamme io non capisco questa live infiammata non lo so è perché hai detto no che ho detto vabbè non ripetiamo non ripetiamo non voglio non voglio sapere cosa ho detto io non riguarderò questa live vedo tipo i contenuti che faccio che io non riguardo soprattutto l'inizio della live che è imbarazzante io mi sento in tutto quello che dico io non mi dirò indietro allora vabbè appunto io invece avevo messo memoria dal sottosuolo anche qui non è che mi riveda sì due libri di Osoievski non è che mi riveda nel protagonista davvero nel senso che ovviamente anche qui ci sono certi sentimenti in cui magari mi posso ritrovare che però qui vengono diciamo portati all'estremo sicuramente quindi alla fine memoria dal sottosuolo parla di quest'uomo che vive appunto nel sottosuolo che è una sorta di metafora per dire che si ritrova del tutto distaccato dal resto della società del tutto isolato dalle altre persone e cova questo sentimento di rabbia praticamente nei loro confronti derivato da questa sua esclusione quindi anche qui un senso di inadeguatezza come appunto anche nella nausea magari però più rabbiosa cioè sia in questo sia in quello che hai detto tu alla fine credo che sia più rabbiosa e più più estrema anche perché ovviamente questi sono personaggi veramente al limite della sanità mentale anzi cioè che l'hanno superato però però questo sentimento appunto di di inadeguatezza e di un po' di astio nei confronti di tutti e di tutti credo sia qualcosa che poi alla fine ogni tanto rappresenta non dico tutti ma sicuramente molte persone io volevo mettere anche ad esempio un libro di Bernard sempre per questo tipo il soccombente sempre per questa non lo so misantropia diciamo che che ogni tanto in cui ogni tanto ci si rivede cioè mentre si leggono questi libri ci si rivede no poi vabbè poi dopo nella vita reale siamo tutti dolci coccolosi però secondo me questi sentimenti ogni tanto anche solo come sfogo vanno letti poi non è che non è che abbiamo messo dritto e castigo dove c'è il tizio che uccide beh qui comunque di violenza ce n'è non è che si però insomma no non ce n'è dai poi anche le donne non sono proprio quindi non ricordo questo dettaglio dovrei rileggere ho letto quando ero più però diciamo c'è una prima fase della nausea in cui ti rendi conto che sostanzialmente sei molto distaccato rispetto agli altri e poi c'è la fase memoria del sottosuolo in cui siamo vecchio rabbioso sì che magari cerchiamo di non raggiungere sì magari però però leggerla è liberatorio secondo me esatto ti dà sfogo perché è come ti dà sfogo Bernard poi non è che anche in Bernard o Trevisan poi fanno una bella fine i loro personaggi no ma perché poi alla fine esatto quelli che fanno la brutta fine sono loro non mica gli altri cioè sono proprio alla fine questo odio lo rivolgono verso se stessi principalmente quindi non è che io avrei messo Albert Camus sì ma infatti prima ho messo Sartre avrei messo anche Camus ma ve l'ho detto avrei messo solo libri esistenzialisti e fine però e poi avresti messo il mito di Sisifo sì però anche la peste ci stava in tutti e due il mito di Sisifo di più sì però personaggio al limite lo straniero ovviamente anche però con la nausea secondo me si esaurisce già quel discorso l'inconscio è preoccupante cosa c'è nel mio inconscio manca solo uno il tuo inconscio è molto preoccupante sì una testa una testa ok allora mancava questo allora questo è un libro che no allora due perché due cos'altro mi manca questo non è il tuo no va bene bebinissimo allora questo libro qui l'ho letto in realtà quest'anno e questo l'ho messo quando ho scritto le storie Instagram ci ho messo l'amore nel senso che la storia d'amore che racconta Powers in questo romanzo è una storia è forse la storia d'amore che più mi è piaciuta che io abbia mai letto in letteratura non lo so cioè alla fine l'amore è uno dei temi importanti della vita di qualsiasi essere umano e da non amante delle storie romantiche quando poi lo trovi in una buona forma non puoi fare a meno dire bellissimo perché comunque è uno dei nostri temi poi magari uno si può non sentire rabbioso dopo dello scantinato però non puoi non esimerti dall'amore e non è tanto per la storia d'amore poi che lui racconta ma proprio per il modo in cui la racconta cioè lui racconta in questo romanzo il desiderio di avere qualcuno che ti ascolti qualcuno che cresca con te qualcuno che che sia lei vicino a te però non chiedo che dia meno cioè qualcuno comunque che ti formi e che faccia sì che tu formi lui cioè qualcuno che ti dia qualcosa e per me Power si racconta questo in Galatea innanzitutto cioè il desiderio di trovare qualcuno che con cui riuscire a crescere e si cresce anche a 40 anni ovviamente anche perché i personaggi di questo romanzo non sono adolescenti non sono giovani non sono ventenni anzi e poi si racconta anche qui della disillusione amorosa del del lutto amoroso del non lo so di tante cose cioè sia di un nuovo amore ma anche di un amore perduto le due cose a volte coincidono è tutto molto flashback perché è molto introspettivo e poi ci sono tutti altri discorsi che esulano da questo magari lo leggete e vi colpisce per un'altra cosa vi colpisce per il discorso sull'intelligenza artificiale vi colpisce sul discorso più scientifico vi colpisce la distinzione tra letteratura e scienza però è un libro che a me personalmente ha colpito per tantissimi aspetti ma soprattutto per come racconta queste storie d'amore perché secondo me ci sono almeno due storie d'amore in questo romanzo vada con ok vai allora quello che io mi ero totalmente dimenticata era questo allora sempre lo sui eschi no no in questo caso no allora sfortunatamente questo libro l'ho messo perché è uno dei rari casi in cui un libro mi è piaciuto moltissimo proprio perché mi ci sono rivista tanto e basta praticamente perché poi su tutto il resto diciamo non è che mi abbia convinto così tanto bello sì però niente di che sinceramente invece quando l'ho letto ero proprio impazzita mi era piaciuto da morire perché l'ho letto nel momento perfetto per leggerlo perché questo libro parla di una ragazza al primo anno di università una matricola appunto all'università e vi ho detto prima che il tema della scelta dell'università per me era era difficilissimo mi ha mandato in crisi così ma anche dopo aver la scelta perché io ho anche cambiato facoltà perché mi ero iscritta a matematica e poi sono andata a filosofia dopo un anno e quindi questo libro che parla del senso di spaesatezza di spaesamento che prova appunto la protagonista una volta iniziata l'università su cui aveva delle aspettative di un certo tipo e che non sono assolutamente state raggiunte perché si sente più confusa che altro si sente di fare cose totalmente diverse da quelle che le interessano e anche poi al di là dell'università è un momento ovviamente della vita in cui si cresce e si cerca di non so anche nelle relazioni interpersonali magari si vorrebbe cioè anche il tema di non riuscirsi magari ad integrare ad aprire agli altri cioè tutte queste problematiche che si possono avere in quel momento della vita io le avevo tutte lei pure Selin la protagonista del libro e quindi mi ci sono rivista tantissimo e tuttora comunque nella mia mente è un libro importante per me ma non tanto per cioè come libro in sé non lo reputo chissà che cosa però non lo so quando l'ho letto mi sono veramente sentita capita questo è uno dei pochi casi appunto in cui il sentirsi capiti era la cosa principale della mia esperienza di lettura ecco quindi lo dovevo mettere per forza ci sta anche io mi sono sentito abbastanza vicino a questo libro per quanto poi lo trovo molto debole nella seconda sì sì no ma anche lo trovo debole da certi punti di vista ha una struttura abbastanza brutto ritmo sì un ritmo un po' così però allora poi vado avanti con aspetta che qualcuno ha commentato un compagno di vita nessuno una compagna di vita il teatro di sabbat perché c'era troppa poca rabbia no perché perché Dostoevsky non bastava perché Dostoevsky non bastava no perché il teatro di sabbat è secondo me una grandissima rappresentazione di un personaggio sì rabbioso ma anche un po' arrivato a un'età una senilità in cui riflette su tutto tutta la sua vita e ci riflette con ironia amara ci riflette con realismo perché guarda davvero indietro a se stesso ed è un libro bellice è uno dei libri più belli che ho mai letto non c'è dubbio sì va letto almeno tutto almeno una volta questo è ancora quello che per me è superato ancora il primo lot che ho letto e ancora nessun altro lot lo ha superato ma mi mancano ancora tantissimo la cosa che mi piace ovviamente di Rot in generale di questo libro ancora di più è proprio la sensazione di sporco che si ha quando lo si legge perché Rot è un autore che va proprio a fondo è un autore assolutamente realisticissimo in quello che racconta nella psicologia dei suoi personaggi c'è il desiderio sempre dell'erotismo ma anche dell'autodistruzione quindi della morte dell'Eros Eros e Tano sono sempre in conflitto e penso siano i due motori della vita di ognuno se vogliamo banalizzare il più possibile le cose però penso siano due grandi fuochi che ci ardono dentro e che scombinano molto i nostri piani e quindi la paura della morte e il desiderio l'istinto che non riusciamo a frenare e che poi si declina magari in un amore magari in un rapporto che è occasionale e e tutto questo è descritto benissimo nel libro cioè è una cosa assurda quindi di Rot mi piace e mi rivedo e mi rivedo nel come si può non rivedere Rot nel cinismo assoluto nel modo in cui lui era di di guardare le cose e nel modo proprio crudo che ha di dire noi siamo così siamo così bassi e allora non andiamo nei fieri ma rappresentiamoci così per come siamo quindi io difendo totalmente la filosofia di Philip Roth la sua scrittura la sua idea da Dio Columbus non l'abbiamo letto nessuno dei due è la prima cosa che ha scritto però vero? sì io ho letto lasciare andare che è il primo romanzo che ha scritto che è subito dopo Dio Columbus che è una raccolta di racconti e non mi è piaciuto non fa schifo non fa schifo però rispetto a tutto il resto che ha scritto Philip Roth è molto lontano dalla sua narrativa quindi io diffido un po' del primo Roth però sì sono grandi libri a proposito di Pastora Americana e Nemesi io ho messo proprio Nemesi invece abbiamo messo due Dostoyeschi e due Rot insomma sono troppo allora io ho messo proprio Nemesi che comunque è un romanzo minore secondo me di Roth ma e non è il mio preferito di Roth il mio preferito forse è sempre il teatro di Sabbat o La macchia umana vabbè e però questo libro io l'avevo letto appunto pensando vabbè è un romanzo minore di Roth tanto voglio leggere tutto di Roth quindi ok ma in realtà mi ha devastato praticamente perché comunque trovo che Roth anche in questi romanzi minori riesca ad essere veramente pungente veramente molto efficace con questa brutalità che ha no nel raccontare gli aspetti più devastanti della vita umana fondamentalmente in questo libro praticamente si parla del non so come dire perché non voglio fare proprio spoiler di quello che succede nel libro però parla diciamo del peso di certe scelte anche insignificanti che poi però invece hanno delle conseguenze diciamo abbiamo capito il tuo sì vabbè ma infatti sei sempre lì però io e le responsabilità due le scelte e le responsabilità due cose diverse vabbè però sì Roth in generale adesso parte di scherzi parla molto di appunto la prospettiva anche della vecchiaia no in molti dei suoi libri alla fine i personaggi principali sono ormai vecchi o comunque molto cioè abbastanza avanti con l'età e si guardano indietro e lui non è che addolcisce le cose no ti dice proprio io ho fatto questi errori ho ho sbagliato in queste cose la vita che ho fatto mi ha portato qui dove sono adesso in una posizione spesso abbastanza brutta brutale però le cose stanno così e devi accettarle e cioè c'è un un realismo molto brutale in Roth che ti ti fa dire ok devo stare attenta come conduco la mia vita perché poi le scelte hanno un peso ti portano poi ad un diciamo ad un certo punto della tua vita in cui certe cose sono irreversibili quindi comunque devi non lo so questa è un po' la riflessione che faccio sempre quando leggo Roth poi Roth come dicevi cioè le cose principali di Roth le hai dette tu alla fine però c'è lo sporco il fatto di scendere negli inferi della natura umana e non tirarsi indietro appunto però sì cioè sulla mia vita ha anche questo impatto cioè che ogni volta mi fa mettere un po' non in dubbio però mi fa dire ok le cose possono anche andare male cerchiamo di stare attenti a farle andare male vero a proposito vabbè adesso abbiamo finito con i libri giusto? sì bene lei fa la regista di questa live perché io non so nulla a proposito di irreversibilità cerchiamo di andare veloci alla fine sì adesso andiamo un po' più veloci a proposito dell'irreversibilità che effettivamente è tema di Roth e teatro di sabbath lui si guarda indietro appunto sa che è tutto irreversibile però si guarda indietro anche con una certa ironia amara il primo film di cui parlo è proprio un film film di ironia amara il dottor stranamo e anche di reversibilità perché questo tratta un tema che non voglio spoilerare il tema della guerra in generale non dico in un specifico cosa dell'irreversibilità di un qualcosa e lo fa attraverso un Kubrick ovviamente un Kubrick andava messo anche tu hai Kubrick giusto? no? non ha mai visto un film di Kubrick hai mai visto un film di Kubrick? dai sì sì vabbè comunque può finire qui questa live no vabbè dai però il dottor stranamo che non so neanche se definire il mio preferito di Kubrick perché comunque ne ha fatti veramente troppi di bellissimi e devo rivedermi anche io perché l'ho visti quando ero troppo piccolo no ma ci sta ci sta lei ha una cultura filosofica e letterale così c'è una cultura filosofica e letterale che io non ho e poi del versante cinematografico che comunque tra i ottimi consigli ti mancano delle basi ma ci sta ma anche io non ho visto Tarkovsky cioè dai ma ci sta ma ci sta hai visto tutto non ho visto tutto ma non ho visto tutto ho visto tutto questo stranamore che è un film che mi che mi sento mio perché c'è un guardare alla vita in modo ironico no? l'ironia dell'amarezza della vita è un film molto cinico è un film proprio di black humor forse uno dei migliori film assoluto di commedia nera che siano mai stati realizzati il mio preferito di questo genere tra quelli che ho visto nei miei 23 anni ed è un film meraviglioso assolutamente computer sellers che è enorme vai vedo bene allora se lo trovo allora facciamo che rimaniamo sul sul filone della commedia però nera e molto drammatica anche ok allora questo è un film che è uscito in Italia quest'anno in realtà e infatti l'ho visto da poco The Banshee Slovene Sharing che si chiama tipo gli spiriti dell'isola un'erba così in italiano che non l'ho visto perché non è vero che l'ho visto tutto anzi questo mi ispira molto e allora a me è piaciuto tantissimo perché è di un cinico pazzesco è pesissimo cioè però è comico però fa anche ridere e c'è questa commistione di commedia e drama che cioè drama non nel senso drama però tipo proprio no esatto nel senso proprio di io non ho capito il finale no non spoilerate no al finale non ne parliamo però cioè è un film che ti spiazza costantemente perché appunto ci sono dei momenti comici poi ci sono dei momenti drammatici ma pesanti quindi non cioè è un'alternanza veramente assurda è abbastanza straniante durante tutto il corso del film e poi è molto metafisico lo definirei perché c'è molta molti momenti di riflessione diciamo ma anche fatti bene perché magari sono semplicemente dei dialoghi anche abbastanza veloci però che comunicano tantissimo e sì ovviamente io l'ho vista in inglese ma come come tutto alla fine in originale ovviamente credo meriti molto di più però non so in italiano come sia però comunque ha dei dialoghi pazzeschi secondo me anche solo leggere i dialoghi cioè tipo leggere lo script del film sarebbe sarebbe bellissimo perché ha dei dialoghi meravigliosi non lo so ha veramente delle poi vabbè la scenografia queste quest'isola sperduta in Irlanda ovviamente un po' aiuta perché ti sentivi rappresentata cioè no mi sento rappresentata nel nel questa commissione nel mood che è questa commissione di ironia e comunque comicità perché alla fine la buttiamo anche sul ridere però parlando di tematiche in realtà pesissime e di cose allucinanti ok quindi per niente leggere questo anch'io anch'io più nel mood che che poi nella trama no io l'ho visto tu l'hai visto io l'ho visto prima dell'alba vabbè però è un film un po' nel senso beh oddio non toccherei quella trilogia perché è molto apprezzata no vabbè un film abbastanza cioè è bello però brava critica così devi essere giusto 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 se non ti ha svoltato ci sta si sarebbe da fare vabbè ma lo riguardo ti ha tradito un tradimento che l'hai visto senza di me allora quali sono i miei film vado con questo allora mommy di xavier d'olana che è uno dei miei film preferiti l'ho visto un sacco di volte xavier d'olana non è molto apprezzato secondo me cioè c'è un certo snobismo verso questo regista cioè nel senso viene ritenuto un po' un po' così un po' non lo so secondo me non piace molto ai critici cinematografici quindi a differenza di Kubrick è proprio l'opposto secondo me rispetto a ricezione a me piace tantissimo il suo cinema è il cinema che io farei sinceramente è un cinema videoclipparo no no fight club no fight club per cortesia non ci siamo e a nilalco bellissimo fight club cioè film carino ma non è non è assolutamente un film che metterei cioè qui metto roba che veramente è l'olimpo e in mommy mi colpisce sempre il discorso così come poi quasi tutti i film di xavier d'olana così come il primo c'è i due momer che volevo mettere ma mommy comunque è un discorso un po' diverso cioè di base c'è sempre la conflittualità con la propria madre io lo stenderei la conflittualità delle adolescenti con i propri genitori che è un tema che ovviamente mi è molto caro ma penso che è caro a tutti e penso che xavier d'olana ne parli molto bene soprattutto in xavier d'olana qui c'è poi un discorso anche di di problematicità dal punto di vista della salute mentale del protagonista però l'intensità con cui viene raccontato questo rapporto morboso difficile che si ha con i propri genitori mi colpisce tanto e poi la sua estetica mi piace tantissimo irrealistica per carità per molte cose però tu l'hai visto mommy no? e avevi visto qualcos xavier? ho visto jettui mma però non mi ricordo jettui mma era ok che è molto più realistico è molto più realistico ma anche quello non è che viene definito il capolavoro è molto imperfetto l'ha fatto a 18 anni quello figlio 17 però mommy no mommy filmone è il miglior film di xavier d'olana tu parli sempre di mommy quindi ma perché è il miglior film di xavier d'olana è il punto più alto della sua produzione non credo abbia fatto forse lorence anyways ci va vicino però mommy per me è il migliore vai tu allora io vedo qui un film che è in tema con quello di cui abbiamo parlato prima con i libri vai tu vai tu ovvero il tema delle scelte ma dai ma pensa di nuovo ma non mi dire non me l'aspettavo questo demone allora mister nobody è un film che praticamente parla delle diciamo diverse alternative che che potrebbero sussistere in base a determinate scelte ok che prendiamo anche stupide anche scelte banali è un po' l'effetto farfalla ok quindi che una cosa una piccola cosa diversa può alterare il corso degli eventi nella tua vita c'è un film chiamato butterfly effect però abbastanza e in realtà questo è il motivo per cui mi piace poi devo dire che non me lo ricordo neanche così bene nel senso che so che mi aveva colpito per questo motivo qui però so che c'era anche altro cioè a livello di trama comunque era più complesso di così e comunque molto bello è un film anche un pochino se vogliamo fantascientifico ma nel senso che ci sono degli elementi non pretamente realistici appunto al di là poi del far vedere appunto le varie alternative però non voglio né spoilerare né dire cose non vere perché non me lo ricordo così bene ecco però sicuramente il mio tema preferito che è quello della scelta e di come le scelte possano cambiare il corso degli eventi è il motivo per cui mi è piaciuto molto Matti ci dice che è un film bello e angusciante sono curioso sono curioso poi allora questi qui li abbiamo fatti questo era tuo? no è tuo lo metto non so cos'è ah ok Hong Kong Express allora Hong Kong Express lo metto perché è un film che ecco qui siamo sullo stile di Mommy dal punto di vista dell'utilizzo delle musiche che per me è molto importante nel cinema e nella vita e dice anche in Express o Hong Kong Express io prendo proprio questo prendo il ruolo che la musica ha nella vita di una persona che è poi il ruolo che gli dà Wong Kar Wai nel suo film migliore secondo me ma proprio non c'è Paragone bellissimi gli altri ma questo veramente è tutta un'altra cosa un film fresco è un film pieno di generi è un film imperfetto perché c'è una bella spaccatura a metà un po' troppo netta un po' però è proprio un film tra i miei preferiti perché ci sono queste musiche che danno un tono all'ambiente come direbbe Lebonski del suo tappeto e e danno veramente un tono alle vite di questi personaggi qui poi c'è la malinconia muragamiana io ci ho trovato tanto muragami nella prima parte del film il personaggio non mi ricordo come si chiama però che ce n'è la prima parte del film è proprio muragami con la malinconia lì c'è un po' anche di di noir che non è un genere che mi piace molto però ti dà proprio quel mood lì diverso che si contrasta in modo strano alla malinconia amorosa poi c'è la storia d'amore molto più leggera e tutto sostenuto da queste musiche da queste canzoni che non è colonna sonora fatta per il film ma sono canzoni scelte come dream the cranberries ricantata da voi dall'attrice che non mi ricordo come si chiama però non importa e che insomma colonna sonora che io continuo ad ascoltare è un film che mi mette il buon umore così mi mette il buon umore ad ascoltare queste canzoni è un film che a me mette proprio una leggerezza e ci sono tutti i mood che tranne i culo noir che sento tanto miei è bellissimo film veramente bellissimo film lo adoro concordo che è un bellissimo film questo va scelgo allora andiamo su questo che in realtà l'ho messo perché non è che mi rappresenti di per sé non c'è nulla che mi rappresenta rappresenta un po' i miei gusti credo nel senso che c'è molta critica sociale in questo film c'è molta ironia diciamo di certi aspetti tu non l'hai visto questa è una grave mancanza Robin Spacey vabbè non posso dire nulla perché appunto che mi spesi qua no spoiler però che mi spesi va bene tu sei già spoilerato con la canzone di Caparezzo vabbè però insomma sì molta critica sociale molta uno sguardo veramente feroce all'America contemporanea e non solo all'America che è un tema diciamo che ricerco molto sia nei libri sia nei film in questo caso fatto secondo me perfettamente cioè mi è piaciuto veramente tanto questo film non lo so è tra i miei preferiti in assoluto e quindi sì cioè qui più i miei gusti sono curioso cioè quando lo vedrò sarò molto critico ma sei già critico prima di averlo visto perché non ho detto niente però è uno di quei film famosissimi popolari che io di cui mi sono sempre venuto alla larga perché mi sembra un po' però in realtà magari è magari è fatto benissimo non lo so se hai fatto benissimo perché non non mi ricordo abbastanza di questi aspetti più tecnici però sicuramente cioè secondo me è un gran film dai no me lo vedo questo no no era il libro è il libro manca solo questo no no c'è neanche un altro ok qui invece siamo allora anche in anche nell'altro film nel anche in espress c'era tranquillo c'erano la storia d'amore ok però se devo scegliere una storia d'amore scelgo la la land cioè come si può non scegliere la la land è un filmone la la land è un gran muse a te non piace va bene perché non mi piacciono i musical ma ho capito che questo film stravolge il musical questo film rifà il musical ci sono le canzoni nel mezzo non mi interessa se lo stravolge a parte ce ne sono pochissime rispetto a un musical e poi non hanno la stessa non dirigono così tanto no ma ho capito ma è vero è vero non ti tolgo cioè sono momenti di respiro sì è vero diversi e e poi la musica è fondamentale in questo film proprio questo film come diciamo questo film racconta cioè racconta c'è l'amore cioè proprio non può cioè è un film straziante un film devastante è è un unico musical che ho adorato ma sì ma cioè perché è un film che apprezzano anche coloro che non apprezzano i musical no ma al di là adesso della storia d'amore cioè questo è un film non so bellissimo non so a me non ha colpito così tanto cioè è bello e sicuramente l'aspetto più della storia d'amore colpisce ovviamente a livello emotivo colpisce tutto quello che vuoi però non l'ho trovato questo film così io sono irromantico mi è sembrato mi è sembrato abbastanza normale devo assolvere a questo compito del romantico della coppia mentre lei fa le sue scelte no allora puoi e questo film parla delle scelte questo film cioè questo film parla delle scelte nell'ambito amoloso ma è un bel film però non è il film della vita cioè è un bel film però insomma ce ne sono altri loro apprezzano i cuori vai al tuo film vai vai al tuo cinismo cinematografico vai il film adesso cattiveria cattiveria no ma no cattiveria è la realtà fattuale fattuale sì non ho più film non hai più film ok no sì vabbè sì effettivamente io roba allegra sempre mi raccomando romantica assolutamente romantica questo è il tuo lato più religioso no perché c'è un prete sì c'è un prete eh vabbè tra l'altro lui è sceneggiatore di Taxi Driver che non ho visto che non hai visto vabbè allora questo l'ho messo per anche qui le riflessioni che vengono fatte che è pareva dire che c'è questo punto lui sempre quando c'è modo si infila potremmo ma vabbè non c'è molto da dire la lasceremo e tra l'uno e l'altro sì niente non lo so questo film mi è piaciuto molto per le riflessioni che vengono fatte tra cui anche cambiamento climatico che comunque è una cosa che mi tocca abbastanza ma non solo cioè qualsiasi cioè un po' un pensiero che diventa un'ossessione alla fine quindi qualcosa di angosciante che non riesci a lasciare andare che diventa un'ossessione e che ti inizia a pesare veramente tanto poi è un film fatto benissimo secondo me cioè l'atmosfera che crea secondo me è molto bella è un po' simile anche a The Benshies come atmosfera però qui c'è meno forse rispetto sì me lo ricordo molto è esatto è solo lugubre solo peso non c'è molta comicità perché Kierkegaard domina per tu sei un po' ligottiano l'antinatalismo vabbè forse un po' too much però siamo lì no comunque no per salvare il pianeta per salvare il pianeta per salvare il pianeta ci potrei fare un pensiero no scherzo non è vero non ti frega niente bene tu ne hai ancora due io quanti ne ho non è vero come due hai questo e basta e no poi è vero è vero hai questo sì ah tu hai questo ah io ho questo no il mio film preferito lo lascio per la fine adesso vado questo questo che poi sono alla fine due momenti proprio di allora questo film mi sento molto vicino a questo film mi sento rappresentato da questo film perché questo film come dico sempre è racconta il mio passaggio tra la tra l'infanzia e l'adolescenza perfettamente la presa di consapevolezza del del mondo degli adulti e attraverso quella che è una fiabba inquietante quando deve essere inquietante magica quando deve essere magica è perfetta secondo me il capolavoro di Miyazaki fino ad ora vedremo il ragazzo l'airone se il ragazzo è l'airone surclass la città incantata siamo veramente spavolosi cioè è un film cioè io non non esco dal cinema e anche se dicono che è un grandissimo film vedremo e che poi insomma i due grandi film di Miyazaki sono questo e il vento lì come si chiama si alza il vento cioè sono i due film e raccontano uno all'età adulta e uno proprio l'adolescenza il passaggio dell'adolescenza e questo è un film incredibile tu l'hai visto questo qui? si però no cioè no l'ho visto troppo da piccola non me lo ricordo io l'ho visto proprio in quel periodo perfetto e in cui andava visto e poi l'ho rivisto l'ho rivisto mille volte ogni volta che lo vedo questo è un film che mi distrugge in ogni modo cioè proprio ogni volta non penso ogni volta dico vabbè sono cresciuto è una cosa dell'adolescenza dell'infanzia dell'adolescenza dell'infanzia come tante altre cose che poi non mi fanno più quell'effetto invece continuo a farmi un effetto incredibile è un film proprio per me come si dovrebbe raccontare una storia della città incantata e ci restiamo non ho che l'ho visto di recente ed è uno dei film che meno mi colpiscono dello studio Ghibli cioè non dello studio Ghibli ma di Miyazaki vada con il con il suo sì allora ok vabbè allora io ho messo questo che in realtà anche qui non è che mi rappresenti personalmente per qualche motivo semplicemente non so è un film che mi è piaciuto un sacco perché è abbastanza complesso ecco io amo molto i film che sono un pochino da decifrare e che mentre li guardi ti chiedi un po' che cavolo sta succedendo e che magari anche alla fine non è che spiegano tutto ma devi un pochino anche tu interpretare quello che hai visto quindi non so come si possa definire un po' misteri tipo un po' sì questo è proprio un misteri poi comunque un po' anche non necessariamente filosofici però metafisici metafisici esatto che abbiano comunque un sottotesto cioè che permettano delle riflessioni ok al di là di quello che raccontano a livello di trama simbolici sì sì anche sì questo è sicuramente un film simbolico perché poi poi io di questo film non mi ricordo gli aspetti più filosofici cioè mi sembrava un film no no ma non è filosofico è cioè simbolico non è filosofico è simbolico sì sì non è filosofico non mi ricordo non li ho conti no non è filosofico è proprio solo che è solo da decifrare secondo me un minimo a livello anche proprio di trama cioè durante il film non è che capisci subito tutto no poi ce ne sono anche di più complessi però era per mettere anche un esempio e e poi non lo so secondo me anche con un finale che lascia comunque un po' anche all'interpretazione un minimo cioè poi ovvio che questo è tratto no dall'uomo duplicato quindi c'è di di base che è totalmente diverso a me viene mi piace proprio il mood è quello che mi ricordo esatto no a me piace un sacco il mood che crea e queste atmosfere qui poi non parla più di tanto di me semplicemente è uno delle uno dei delle cose che ricerco nei film c'è anche un mood secondo me molto solitario comunque in una città grande di questo comunque professore quindi molto colto che a un certo punto si trova davanti ad un evento inspiegabile sì esatto poi secondo me ci sono degli elementi che ricordano un po' magari anche quella sì sì cosa che tira cioè anche poi anche appunto cioè è il giusto mix secondo me tra qualcosa di surreale però comunque non troppo sì non troppo perché io poi le cose che veramente non hanno assolutamente alcun senso non le cioè non le apprezzo tantissimo di solito cioè quel quel surreale che proprio sì sì che non riesce a ricondurlo a nulla di sensato ecco inspiegabile incomprensibile non mi piace quindi qui siamo sulla giusta sul giusto mix secondo me sul giusto equilibrio è un math mystery può essere un mystery matematico non lo so un po' no matematico no dai però un po' logico sì ma tocca a me tocca a me ah io metto il mio film preferito vai il film in cui mi sento più rappresentato aiuto birdman non faccio battute perché già ne ho fatte di brutte birdman di aleandro conzare segnari è indubbiamente il film che che amo di più l'ho visto una quantità di volte spropositate ogni volta lo amo e perché mi sento così vicino a questo film perché questo è un film che parla dell'arte nel modo in cui io parlerei dell'arte perché è un film che parla del divario tra in questo caso cinematografico tra i blockbuster sui supereroi e un cinema autoriale che in questo caso è teatro autoriale quindi tra questi due modi di fare arte totalmente contrapposti il blockbuster il film fatto ad occhi chiusi il film con un grandissimo budget grandissima produzione prendi tutti gli autori famosi fai questo crossover assurdo di supereroi quindi da una parte gli avengers dall'altro questo che vuole portare carver a teatro e vuole fare qualcosa di autoriale in sé è un film autoriale ovviamente che prende michael keaton che era attore di batman quindi comunque crea questo cortocircuito cioè prende attori che hanno avuto dei ruoli nei film dei supereroi cioè mastone che ha fatto spider man insomma quasi tutti attori che poi attori della madonna in questo film con interpretazioni perfette musiche perfette piani di sequenza splendidi sceneggiatura limite della perfezione e anche qui ironia cinica black humor è un film che alterna il ritmo perfettamente con questa colonna sonora che non esiste che è solamente batteria che scandisce perfettamente il ritmo è un film che appunto parla di cosa vuol dire voler creare un'opera autoriale in un mondo che in cui questa cosa non esiste quasi più è un film anche un po' snob per carità è un film che sento meglio nella critica verso l'arte è un film che sento meglio nel concetto di arte e poi è un film perfetto per me quasi tutto quasi tutto lo devo vedere tu lo devi vedere che dici mi sono fumo quando parlo di Bersia mi fomento un po' cioè guardo vabbè ci sta allora dopo questa presentazione powerpoint io mi sento un pochino live powerpoint no nel senso però io mi sento un pochino in soggezione perché in realtà allora io semplicemente ho messo arrival che poi è sempre Villeneuve è vero ho messo due Villeneuve hai messo due Villeneuve che poi in realtà a me di Villeneuve mi piace Prisoners che è veramente io non l'ho visto vabbè non amo molto Villeneuve però Prisoners però arrival ci sta io 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 arrival è quello che ha più da dire sì arrival io l'ho messo perché a me piace molto la fantascienza soprattutto nei film cioè perché come avevo detto prima di libri in realtà non ne leggo tanti di fantascienza cioè ogni tanto cerco di leggerli ma non è cioè non ne leggo molti i film mi piacciono molto i film di fantascienza però appunto anche lì di nuovo quelli che vogliono dire qualcosa ovviamente non cioè ne ho visti anche di veramente brutti perché se non vogliono raccontare nulla e vogliono soltanto ambientare le cose nello spazio non è un film di fantascienza secondo me è una critica è una critica è una critica gravity ah ok no pensavo 2001 no quello lo devo rivedere per commentare allora l'hai visto un film di Kubrick dai no vabbè l'ho visto alle medie cosa mi ricordo non l'avevo capito assolutamente niente quindi arrival secondo me è probabilmente il film di fantascienza più bello che io abbia visto forse alla pari di Moon che è di Duncan Jones figlio di David Bowie però è tutta altra roba Moon qui c'è più un tentativo di di ritrarre appunto anche qui qualcosa di di radicalmente diverso da noi c'è l'incontro diciamo con l'alieno con l'altro però fatto in modo secondo me molto sensato molto anche qui ricco di significato poi non è il film della vita sicuramente ci sono altri film però non lo so l'ho messo perché la quota fantascienza la volevo mettere semplicemente perché è un comunque un mio interesse forte soprattutto nei film e questo è il film di fantascienza fatto come si dovrebbe secondo me cioè proprio in tutto poi non so erei sì molto simbolico su un e due ce lo vediamo non so io 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 che metto due film di Villeneuve poi in realtà Dune non mi è piaciuto particolarmente però non so potrei anche vederlo il 2 però sinceramente c'è è una bella sfida 2 e 2 2 e 2 2 e 2 non credo 2 e 2 2 bene abbiamo finito non c'è più nulla giusto non tutti che live lunga bene io spero che vi sia piaciuta questa live che abbiate colto qualche consiglio di lettura e di visione cinematografica i nostri caratteri si sono capiti uno psicopatico che sta con una indecisa uno psicopatico come può finire lo scopriremo esatto grazie per averci certo morire in video a noi single no grazie putri affatto grazie grazie a tutti grazie a tutte grazie a tutte per aver guardato questa live e niente vi salutiamo vi ringrazio buona serata buona serata ciao ciao a tutti grazie a tutti